Non può continuare a raccontarci la favola che punta al 40%, no? Non ci crede neanche lui, anche se... Addolciamoci! Dai, vai! Dai, vai! Ok, non può provare che, non posso capire Non posso capire Non stia, senza gli notici, senza le bisognito Sono un frío, un po' nel che viene e attraversato questo cale Ho buono, ho buono, ho buono Ho buono, ho buono, ho buono Ho buono, ho buono, ho buono Però non la nazione, io sono tutta di lei e te ame, te lo juro. Però valga dire che sono le mie parole, il ultimo adio, il ultimo adio. Con le mani, con le mani, con noi. Anche vengas per lo dì, dì me glori e me pida. Anche vengas e me llores, che te asuerva e te perdone. A che a me me causes pena, mi tirano le tue cadenze. E te dedico a stare in cera, per se è l'ultimo adio. Anche vengas e implorare, a pedirme, a suplicare. Anche vengas e me llores, che te asuerva e te perdone. Anche a me me causes pena, ho io tiro tu cadenze. E te dedico a stare in cera, per se è l'ultimo adio. Anche vengas e me llores, che te asuerva e te perdone. Anche vengas e me llores, che te asuerva e te perdone. Anche vengas e me llores, che te asuerva e te perdone. Anche vengas e me llores, che te asuerva e te perdone. Anche a me me causes pena, ho io tiro tu cadenze. E te dedico a stare in cera, per se è l'ultimo adio. Se chi è ricco e fortunato, chi vorrebbe essere mai nato? Io però, io vado liscio. Chi non ha problemi veri, chi ha mangiato solo ieri. Ma si sa, questa è la vita. C'è chi alle donne piace sempre, piacerà. Ragion per cui, beato lui. Non è il mio caso e mai credo lo sarà, ma prima o dopo qualche cosa mi accadrà. Vado liscio, vado liscio. Ogni volta cado dentro un precipizio. Vado liscio, vado liscio. Se la prendo e nei denti o di striscio. E mi devo accontentare. Basta quello che il convento può passare. E se tiro, non riesco mai a far centro. Vado liscio e conto fino a cento. Sette di novembre. Eccoci qua allora. Sette è un numero magico come il tre, come l'undici, numeri strani. Sette, undici, duemila e diciassette. Insomma ci sono delle combinazioni numeriche mica da ridere. Comunque è il sette di novembre, è martedì. Siamo ormai quasi nel centro della settimana. Per chi naturalmente desidera stare a casa. Il sabato è lontano, ma la possibilità la sera poi di andare a divertire c'è sempre. Per esempio domani sera vi aspettiamo a L'Avies Cristo, a quel di Parma. Perché naturalmente ci preparano sempre dei deliziosi manicaretti. Poi insieme a Moreno, a Fiorenzo, a Daniele Tarantino e a Lìa, a Roberto Scaglione, o a Cassa Silvano e Mauri, insomma, vi presenterò la serata. Quindi domani sera veniteci a trovare a L'Avies Cristo, a Parma. Vabbè, comunque, sette di novembre. Novembre è un mese triste, lo sapete, ma noi cerchiamo di renderlo allegro. E soprattutto di seguire la nostra via. Settimo anno di Vado a Liscio, insieme a voi, circa duemila puntate, ancora oggi. Siamo nel 2017 e siamo ancora qua con voi. Allora, seguiamo la nostra via, My Way, perché giovedì Pinoferro sarà la Villa di Gli. Glicini, giovedì del personaggio, con i grandi menù della Villa di Glicini. Giovedì, naturalmente, vi aspettiamo alla Villa di Glicini. C'è Pinoferro, My Way, che bello, cominciamo alla grande. Buon ascolto. Giovedì, naturalmente, vi aspettiamo alla nostra via, My Way, che bello, con i grandi menù della Villa di Glicini. Giovedì, naturalmente, vi aspettiamo alla via, My Way, che bello, con i grandi menù della Villa di Glicini. Giovedì, naturalmente, vi aspettiamo alla via, My Way, che bello, con i grandi menù della Villa di Glicini. Giovedì, naturalmente, vi aspettiamo alla via, My Way, che bello, con i grandi menù della Villa di Glicini. Giovedì, naturalmente, vi aspettiamo alla via, My Way, che bello, con i grandi menù della Villa di Glicini. Giovedì, naturalmente, vi aspettiamo alla via, My Way, che bello, con i grandi menù della Villa di Glicini. Giovedì, naturalmente, vi aspettiamo alla via, My Way, che bello, con i grandi menù della Villa di Glicini. Giovedì, naturalmente, vi aspettiamo alla via, My Way, che bello, con i grandi menù della Villa di Glicini. Giovedì, naturalmente, vi aspettiamo alla via, My Way, che bello, con i grandi menù della Villa di Glicini. Poi, magari, non bisogna solo badare la bellezza, a volte contano tante altre cose. Comunque, lasciala, per voi arriva. Giusi, Mercury, Davado, Alizio, la bella bergamasca. E vai! Giovedì, naturalmente, vi aspettiamo alla via, My Way, che bello, con i grandi menù della Villa di Glicini. Giovedì, naturalmente, vi aspettiamo alla via, My Way, che bello, con i grandi menù della Villa di Glicini. Sempre solo con me, lasciala, lasciala, non voglio vivere più un minuto senza di te. La tese è come una spada che ti trapassa al cuore, ti uccide piano è un dolore che non sai mai quando finirà. Se ami me veramente, giuralo sinceramente, dammi la prova che è la sola verità. Amore, lasciala, 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 diglielo che te ne fai, che non l'ami più, che vuoi star con me, sempre solo con me. Amore, lasciala, 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 non voglio vivere più un minuto senza di te. Amore, lasciala, 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 non voglio vivere più un minuto senza di te. Lasciala, 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 non voglio vivere più un minuto senza di te. Non voglio vivere più un minuto senza di te. Di bella donna in bella donna, Francesca Salmieri. La conoscete? È stata per un periodo, tanti anni fa, una cantante anche d'orchestro Omar Lambertini, poi è andata con i Filadelfi. Insomma, ha fatto anche lei il giro di qualche orchestra e come succede a tanti, ha deciso di mettersi in proprio. Mi metto in proprio, mi faccio la mia orchestra, Francesca Salmieri, bella voce, bella ragazza. Anche lei d'origine schizzeleane. Eccola qua, questa è una cosa che a me piace tantissimo. Perché il video è originale, c'è una, come dire, una bella situazione che riguarda anche il testo, si chiama le tue mani. Insomma, a volte ci si può eccitare sentendosi toccare dalle mani di un uomo che trasmettono vibrazioni. Francesca Salmieri dunque, per voi, buon ascolto, un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Ciao cari, vai con Francesca. Io non vivo senza te, come faccio senza amore. Le distanze tra di noi, si avvicinano se vuoi, ma devo fidarmi di te. E se sono andata via, ho lasciato nel mio cuore. Non ho mai creduto che fossi l'unica per te, ma adesso è diverso e ti spiego perché. Io sento le tue mani su di me, le sento quasi addosso ora a te. L'emozione che mi dai, ha un calore che oramai, non riesco più a spegnere dentro di me. Io voglio le tue mani su di me, leggere sul mio corpo come se. Ogni giorno tra di noi, fosse il primo giorno e poi, non resta più niente al di fuori di noi. Mi chiedi come sto, cosa faccio nei miei giorni, ma cos'è questa follia, un amore o una bugia, però tu continui così. Forse un giorno chiederò, in ginocchio il tuo perdono. Non ho mai capito che, non vivevi senza me, ma adesso è diverso e ti spiego perché. Io sento le tue mani su di me, le sento quasi addosso ora a te. L'emozione che mi dai, ha un calore che oramai, non riesco più a spegnere dentro di me. E stringerti vorrei, in tutti i giorni miei, tenerti sempre qui vicino a me. Ti puoi fidare sai, io non ti lascerei, nemmeno un minuto oramai. Io voglio le tue mani su di me, leggere sul mio corpo come sei. Ogni giorno tra di noi, fosse il primo giorno e poi, non resta più niente al di fuori di noi. Io voglio le tue mani, voglio le tue mani. Il Vivi a San Pietro in Casale. All'interno del locale, ristorantino e pizzeria. Tutti venerdì e sabato offriamo una consumazione normale. In sabato, un ricco buffet. Mercoledì 8, tre sale, punto d'incontro, l'orchestra di Andrea Mantovani e Mr. Domenico, più discoteca, rock, boogie, sala, balli di gruppo, col DJ Berta. Venerdì 10, cinque sale, cinque musiche. L'orchestra di Andrea Mantovani, più discoteca, sala latina e sala rock e boogie. Sabato 11, sei sale, sei musiche. L'orchestra di Marco e i clan, due discoteche, due sale Vivi Latino, salsa e chizomba. Domenica 12, musica non stop dalle 15 alle 24, pomeriggio e sera, con l'orchestra Millennio, più sala balli di gruppo, col maestro Silvano e DJ Mirko. 007, a Riva Azzurra di Rimini, in Via Mantova. Si balla tutti i mercoledì, venerdì, sabato, domenica, pomeriggio e sera. Festa della Piadina tutti sabato sera, si mangia e si balla in allegria. Piadina con affettati misti, vino e acqua per tutti. Mercoledì 8, nella Sala Grande, l'orchestra di Diletta Landi e nel privé latino il DJ El Raton con donne e ingresso gratuito. Venerdì 10, nella Sala Grande, l'orchestra Eco di Rimini e nel privé, balla video, col VJ Fosco Olmi. Sabato 11, l'orchestra i ragazzi di Romagna e la consueta festa della Piadina. Domenica 12, pomeriggio e sera, l'orchestra di Morrie e Catiuscia, al pomeriggio donne e ingresso gratuito. Orchidea Dancing, a Ronta di Cesena, si balla tutti i mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Mercoledì 8, il pomeriggio con Claudio Cavalli e, alla sera, di tutto un po' con l'Eco di Rimini. Sabato 11, Fabrizio e gli Accademia. Domenica 12, il pomeriggio con Gusto e Lidia e, alla sera, Country Western Dance con i Wild Angels. Orchidea Dancing, presso Games Village Park Bullying a Ronta di Cesena, con piscina, bullying e sala slot. Euro Club a Savignano sul Rubicone in Via Bastia. Si balla tutti i sabati e tutte le domeniche e i festivi pomeriggio e sera. Si balla in liscio con le migliori orchestre romagnole. Per informazioni e prenotazioni 0541 93 24 01. Sabato 11 novembre con l'orchestra di Stefania Ciani e domenica 12 novembre, pomeriggio e sera, con Patrizia Ceccarelli. All'Euro Club, dal mese di ottobre, tutti i giovedì sera, si ballerà il latinoamericano con il DJ El Raton. Tadini e Berza, storico negozio di alta moda maschile a Modena. Ti offre da sempre qualità, professionalità ed eleganza. Tadini e Berza, dal 1880. Il piacere di vestire italiano. Un appuntamento da non dimenticare, anche perché lui è molto popolare, sta avendo un bel seguito e risulta particolarmente gradevole la sua orchestra. Stiamo parlando di Marco Iclan. Allora, dai nostri parti, parlo sia di Emilia Romagna che di Marche, Marco Iclan non arrivano spesso. Il suo raggio d'azione è più a nord dell'Italia, parliamo di Veneto soprattutto perché la sua schestra è Veneta, o Lombardia, però in Emilia e in Romagna e nelle Marche viene raramente. Marco Iclan però, io ve lo voglio sottolineare, con questo video che sta diventando, è sempre richiesto, sempre apprezzato, porta il titolo di Dammi un bacio. Allora, sabato Marco lo troverete al Vivi, a San Pietro, in Casale. Con un saluto a Orazio, sabato prossimo, Vivi, Marco Iclan, dammi un bacio. Dammi un bacio e poi dimmelo ancora, che mi ami, mi ami davvero. Son sicuro, il tuo cuore è sincero, lo leggo negli occhi che in te c'è l'amor. Quando parli ti trema la voce, e non dici cos'hai dentro il cuore. Sai che io voglio sentirtelo dire, che sei più felice se ti stringi a me. Dammi un bacio, un altro ancora, com'è bello far l'amore insieme a te. Dammi un bacio, un'altra volta, non c'è nulla più bello al mondo che far l'amore. Nella notte il silenzio ci ammaglia, e le stelle ci fan compagnia. Siamo soli, seduti sul mondo, e le tue carezze mi fanno impazzire. Dammi un bacio, un altro ancora, com'è bello far l'amore insieme a te. Dammi un bacio, un'altra volta, non c'è nulla più bello al mondo che far l'amore. Dammi un bacio, un'altra volta, non c'è nulla più bello al mondo che far l'amore. Non c'è nulla più bello al mondo che far l'amore. Non c'è nulla più bello al mondo che far l'amore. Una bella novità, un video del mese delle edizioni Novalis, in tante tv, stiamo parlando di Rossana, mi ha mai messo in parcheggio il mio amico Junior, ma dai, Junior, ma adesso, Junior Magnus, un uomo, un mito, un personaggio, anche lui. Insomma, lui segue sempre Rossana, va in giro, però va a finire che ogni tanto, dai, ci scappa che salirai sul palco. Anche se l'immagine adesso è quella di Rossana, senza Junior Magnus, si chiama solo Rossana. Una volta Junior Magnus e Rossana, adesso solo Rossana. La baciata italiana. Un bel video, naturalmente i bei video sono di produzione di Davide Legni, l'edizione di Sonano Novalis, dedicato a tutti voi, questa baciata italiana. La voce di Rossana. C'è un posto libero qui, qui sul mio diario. Io scrivo tutto di te, e un po' di noi, sento il tuo sguardo su me, cosa più dolce non c'è, e vivo bene così, accanto a te. Ho una visione su noi, che mi addolora, la vita più non sarà bella così. Ti giuro che lotterò, che lotterò insieme a te, fino a comprendere che meglio non c'è. Rosso tramonto intorno qualche nuvola, cerco un appiglio serio per non perdermi. Mentre nel cuore sta nascendo fragile, un sentimento quasi impercettibile. Ascolta quando è bella questa musica, due note chiuse in un motivo semplice. Che entro appassionato, piano piano in noi, sogno di una baciata italiana. Vola lo sguardo lassù, alto nel cielo, mi sento persa nel blu, sempre di più. Gusto la felicità, che la natura mi dà, il sole rosso laggiù, brilla per noi. Rosso tramonto intorno qualche nuvola, cerco un appiglio serio per non perdermi. Ascolta quanto è bella questa musica, due note chiuse in un motivo semplice. Che entro appassionato, pieno piano in noi, sogno di una baciata italiana. Sogno di una baciata italiana. C'è un'altra bella cosa che prima o mai non si sa più dove pescare. Ha fatto i pezzi spagnoleggianti, ha fatto i pezzi medio orientaleggianti, ha fatto i pezzi sudamericani, ha fatto il country americano. Cioè anche l'orchestra vanno a pescare il ritmo da tutte le parti. Per quanto riguarda i sirtaki, che sono tipici della Grecia, ballo tipico della Grecia, ha fatto anche il casaccio, insomma le orchestre hanno spaziato un po' in tutto il mondo. Ha fatto anche qualcosa di giapponese, l'orchestra vicenza ha fatto samurai. Insomma ha fatto delle cose proprio traendo ispirazione dai generi musicali tipici degli altri paesi. Allora, questa è una cosa che riguarda la Grecia, molti di voi quest'estate saranno stati in Grecia, avranno sentito le tipiche melodie greche e questo brano si chiama proprio La Greca. La fisarmonica è quella dell'orchestra italiano, Bagutti, quella di Gianmarco Bagutti. Insomma la dedichiamo a tutti voi perché è una bella novità, anche questa è La Greca, sicuramente durante un'esibizione quest'estate l'avrete ascoltata. Novità dell'orchestra Bagutti, La Greca, il video è nuovo per voi. Novità dell'orchestra Bagutti, La Greca, il video è nuovo per voi. Novità dell'orchestra Bagutti, La Greca, il video è nuovo per voi. Novità dell'orchestra Bagutti, La Greca, il video è nuovo per voi.